La lente a contatto Noi della Saffilance abbiamo finalmente risolto il problema. È nata la nuova lente Open30. In una prima fase del progetto ci siamo concentrati fortemente sullo sviluppo di un nuovo materiale, esattamente un materiale al silicone a hidrogen. Il progetto Open30, in virtù delle scelte tecnologiche adottate, sancisce in modo totalmente innovativo un nuovo standard di comfort e benessere per l'utilizzatore. La nostra esperienza, concretizzata nella Fusion Technology, ci ha permesso l'inserimento di sostituti lacrimali naturali, acido ialuronico e polisaccaride TSP, direttamente nel polimero della nuova lente Open30. Grazie a questa tecnologia brevettata, il nuovo materiale permette il libero passaggio dell'ossigeno attraverso la lente. Mentre ad ogni battere di ciglia, la lente respira, rilasciando i sostituti lacrimali naturali. Sarà poi sufficiente immergere durante la notte le lenti nella soluzione Open Reload all'interno del dispositivo di ricarica, denominato Sonic Wave Generator, per ripristinarne i principi attivi. Il progetto di Open30 è un progetto che personalmente mi ha coinvolto parecchio. Credo che l'entusiasmo di tutto lo staff, di tutti i reparti dell'azienda si sia veramente per la prima volta concentrato nella messa a punto veramente di questo prodotto. Oltre all'introduzione di questo materiale di ultimissima generazione, abbiamo voluto mettere a punto una nuova geometria della lente ed una linea di produzione all'avanguardia per garantire l'eccellenza del prodotto finale. La nuova lente a contatto di Safliance Open30 è una lente a contatto veramente innovativa. I miei clienti sono soddisfatti, sono molto contenti dell'utilizzo di questa lente, soprattutto nel porto prolungato. Questa lente a contatto è molto indicata negli sportivi perché con la sua alta trasmissione di ossigeno garantisce una lente sempre portabile, soprattutto salutare in tutto l'arco della giornata. Ha un sistema di manutenzione che mi garantisce ogni giorno una lente pulita e sicura. Abbiamo voluto aggiungere veramente qualcosa in più, e questa marcia vogliamo veramente che si rifletta poi in una percezione proprio effettiva poi una volta inserita la lente a contatto nell'occhio. Questo prodotto segnerà in qualche modo una nuova strada. iscriviti al nostro canale